Billy! 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 Ehi, cugino, grazie di essere qui, costruttori. Sono così elettrizzata all'idea di avere un nuovo studio. Squadra, ecco la mia spaziale e spettacolare cozina Billy. Billy, ecco la squadra. Ciao, Billy. Che succede, amica? Piacere di conoscerti. Siamo grandi fan dei tuoi lavori. Dà un'occhiata al progetto che abbiamo preparato. Che cosa ne pensi? Ti piace? Oh, no! Lo detesti? Sapevo che doveva essere più mitico. Lo adoro! È veramente originale. Grandioso! Forza, cominciamo a costruire questo bellissimo studio. Innanzitutto, scaviamo le fondamenta. Bene, questa è fatta. Duffy, ora inizi a versare il calcestruzzo. Deve essere bello liscio. Ok! La-ta-ti! La-ta-tan! A-pu-pu-pu! Ehi, Billy! Guarda un po' qua! Wow! È come se mi guardassi allo specchio. È piaciuto! Sì, sì, è stato molto carino. Ma il calcestruzzo deve essere un po' più liscio di di così. Ma almeno mentre giravo ero mitico. Questo pannello calcerà davvero a pennello. Perfetto! Ora che facciamo? Aggiungiamo questi per darle un vai tocco altistico. Dovremo posizionarli con attenzione. Quindi, co-co-co-coraggio! Tutti all'opera! Ehi, cosina! Dimmi, Duffy! Osserva bene. Piazzerò questi pennelli in modo super mitico. Ehi, un secondo! Sono un'anatra! Posso volare? Au! Tutto a posto, cugino? Sì, non sono mai stato meglio. Ok, se lo dici tu. Sei sicuro di stare bene, Duffy? Sto cercando di avere più stile, come Billy, ma non sta funzionando, granché. Lei ci ha assunti perché pensa che siamo ottimi costruttori? Sì, te stesso, come in ogni altro lavoro. Qui stiamo parlando di mia cosina, la migliore del mondo! Essere me stesso non basta e te lo dimostrerò! Sì! Ok, costruttori, ora pensiamo al cavalletto gigante. Sei proprio pronto a mamartellare, Bugs? Come sempre, porchi! Fatto!